Pronti per la settima edizione del Festival Internazionale di Filosofia di Ischia e Napoli. Apriremo con 130 conferenze e il cartellone di quest'anno che è dedicato alla tematica degli universi. Ci può essere l'armonia delle differenze, dal Castello Aragonese con gli appuntamenti serali, con Amalia Ercoli Finzi, Aldo Cazzullo e Pier Giorgio Di Freddi, fino alla partecipazione dei ragazzi, oltre 50 ragazzi in conferenza qui a Ischia in questi giorni. Alla Torre Guevara si parte con la mostra di Lucia De Luise, un'artista isolana che con il suo progetto Isole cerca di mettere insieme quelli che sono gli opposti e armonizzare le differenze di cui parliamo qui al Festival. Grazie.